Lei ha detto che per il nuovo assessore all'istruzione manca la sua firma e cosa ci vuole perché lei firmi? Firmerò a tempo debito, nel senso che ormai siamo in dirittura d'arrivo. Guardate, non c'è stata nessuna... posso anche dire che non ho fatto nessuna riunione, tanto per dare una dimensione. L'anno scolastico si apre in Veneto senza un assessore regionale all'istruzione. Il posto occupato in giunta da Elena Donazzan, che prevede anche la delega al lavoro, è vacante dal 19 luglio, da quando l'esponente di Fratelli d'Italia ha lasciato Palazzo Balbi per il Parlamento europeo. Ho voluto che ci fosse questo periodo di passaggio tra l'assessore uscente e l'entrante. Penso che sia stato doveroso anche lasciare spazio al gruppo di Fratelli d'Italia, alla parte politica, perché in piena estate pensare che ci potesse essere un confronto facile e agevolato, decisamente no. Direi che per fine mese la facciamo questa nomina. Sono loro che non si decidono oppure lei che non... Assolutamente, ci provvederò. Mi sono state proposte a tutte persone in gamba che conoscono la pubblica amministrazione e con la schiena diritta, per cui potrei dire che c'è anche l'imbarazzo della scelta. L'anno scolastico intanto si apre in Veneto come nel resto del paese con grossi problemi di organizzazione del personale docente. Abbiamo 52.000 insegnanti, voglio ricordare che il 20% sono precari. Sto parlando di Veneto. Il tema del fatto delle sostituzioni, delle catade vaganti e tutto quello che sappiamo, io me lo ricordo quando ero ragazzo e andavo a scuola. Cambierebbe qualcosa con l'autonomia regionale? Non lo sapremo presto. L'istruzione è una delle 14 materie che non possono essere oggetto di discussione prima che siano calcolati i livelli essenziali di prestazione. Quindi non sarà un argomento sul tavolo che dovrebbe aprirsi col governo tra settembre e ottobre. Non si creeranno mai 20 ministeri della pubblica istruzione, perché è un'assurdità. Se poi ci sono degli ambiti dove l'efficienza territoriale può essere utile agli studenti, alle famiglie e ai lavoratori, perché no? Per difendere l'autonomia da quello che è definito l'attacco incrociato di opposizioni e sindacati, la Lega Veneta ha lanciato una campagna che prevede l'installazione di circa 200 gazebi per tutta la regione. Iniziamo il 21 settembre, ha detto il presidente dell'Intergruppo Lega in Regioni, Alberto Villanova, e non molleremo fino a quando non raggiungeremo l'obiettivo del nostro popolo.